Assessore Telesca, una collaborazione che si inserisce nel quadro delle relazioni che da alcuni anni il Friuli Venezia Giulia sta sviluppando con il Kazakistan? Sì, relazioni di vario tipo trasversali nelle quali entra a pieno titolo anche la sanità, non è il primo ma prosegue, questo è molto molto importante perché di fatto uno scambio attraverso il Crodi Aviano che è l'istituto di riferimento oncologico della nostra regione che però dimostra ancora una volta di avere una portata non solo extraregionale ma internazionale la capacità di confrontarsi e di diventare punto di riferimento per paesi come il Kazakistan diciamo che lo scambio culturale, lo scambio della formazione, lo scambio delle esperienze professionali la formazione che il Cro mette a disposizione ha anche una valenza importante di ritorno anche per noi, per il nostro istituto, per la nostra regione perché in questo caso si è lavorato e si sta lavorando con un paese che ha comunque professionalità importanti, avanzate ha tecnologie importanti che però deve fare ancora alcuni percorsi soprattutto in quella che è la vocazione principale del Cro, che è la ricerca e quindi credo che proprio in questo contesto complessivo di un rapporto importante con un paese che sta diventando sempre più importante per la nostra regione, veda la sanità come sicuramente un punto di eccellenza, sappiamo che la nostra è una sanità di qualità il Cro è una qualità importante del nostro servizio sanitario regionale e questo credo che possa essere un punto d'onore per la nostra regione e anche una buona prospettiva per il futuro e buona opportunità per il futuro Direttore Tubertini, quindi non solo ricerca e cura ma anche formazione da parte del Cro in questo caso? Diciamo che questa è stata una ghiotta opportunità, abbiamo appunto potuto beneficiare noi e credo anche l'istituto Cazzacco di una settimana di lavoro insieme, questa della formazione penso sia una delle attività nelle quali un istituto oncologico un istituto di ricerca come il Cro deve esercitarsi, deve attivarsi e abbiamo trovato come dire grande disponibilità in questo istituto, grande voglia di apprendere per noi ripeto anche per noi non c'è né la presunzione di andare ad insegnare né la presunzione di avere come dire tutto chiaro per cui questi incontri, queste occasioni di formazioni con istituti anche culturalmente abbastanza distanti da noi ritengo siano veramente un'opportunità per entrambi di migliorare e di crescere aspetti che evidentemente migliorano la professionalità dei nostri operatori, dei nostri professionisti ci offrono occasioni di approfondimento e di ricerca ulteriori per cui sono veramente occasioni che ci coinvolgono e delle quali siamo veramente soddisfatti Dottoressa Michieli, in cosa consiste questo accordo di collaborazione? L'istituto oncologico il Casior che abbiamo visitato è uno dei più grossi istituti oncologici del Kazakistan serve un enorme territorio ed è dotato anche di una scuola di specialità e quindi è un istituto nel quale si possono fare sia un'attività didattica ma soprattutto si può fare un'attività di ricerca perché quello che abbiamo visto noi andando in questo grosso ospedale è un ospedale che ha un personale molto preparato che ha una scuola di specialità con delle persone molto vivaci dal punto di vista dell'apprendimento e della capacità di lavoro e quindi un ospedale che offre tutte le opportunità per una ricca collaborazione sia dal punto di vista della ricerca sia dal punto di vista anche proprio dello scambio personale dell'arricchimento anche personale quindi l'accordo che ci hanno chiesto di stipulare è un po' di accompagnarli in questo loro percorso di crescita che deve essere non solo una crescita dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista culturale ma anche una crescita dal punto di vista organizzativo perché l'intenzione di questo grosso centro di oncologia è di entrare a pieno merito nei circuiti nazionali ed internazionali e in questo percorso noi li possiamo affiancare e costituirà sicuramente un'occasione sia di crescita per noi perché dobbiamo anche rimetterci in discussione mentre aiutiamo loro e mentre gli aiutiamo a riorganizzare un po' la loro offerta dal punto di vista oncologico